Questi giorni i primi studenti di Milano del corso di laurea triennale di Economia vengono a seguire un semestre a Roma. È un'opportunità che è offerta dalla Facoltà di Economia che è presente su due sedi, Milano e Roma. Quindi un'opportunità per gli studenti di Roma che possono seguire un semestre a Milano o gli studenti di Milano che seguiranno per un semestre a Roma. Sono studenti della triennale, esattamente a metà del loro percorso. Ho deciso di intraprendere questo percorso sia per nuovi orizzonti personali ma anche per beneficiare dell'opportunità di incrociare questi due percorsi di laurea ovvero sia quello tradizionale di Economia e Gestione di Milano con quello di Economia e Gestione dei Servizi di Roma. Da questo semestre mi aspetto sicuramente nuove esperienze formative ma anche umane con la possibilità di conoscere nuovi spazi, nuove persone e poter fare esperienze del tutto rilevanti. Mi sono trasferito qua per un semestre nel progetto del scambio intercede fra Roma e Milano. Sono felice di continuare questa esperienza nel campus di Roma che di sicuro mi darà nuove opportunità e conoscenze. Credo che sia veramente un'occasione importante perché riescono a seguire il proprio percorso di studi in due città, quindi conoscendo un ambiente diverso, conosceranno docenti diversi, faranno nuove amicizie, conosceranno bene un'altra città, arricchiranno il loro curriculum.